Una conferenza stampa di presentazione del comitato fanese al sostegno di Matteo Renzi, segretario in ticket con Maurizia Marino. Sì, oggi abbiamo presentato il costituendo comitato per Renzi segretario, sostenendo una mozione che Renzi porta avanti e presente in ticket con Martina. E questo comitato nasce a seguito del raccordarsi tra le diverse anime del Partito Democratico e non che hanno la necessità di portare avanti un discorso di riforme, un percorso iniziato già da Matteo Renzi sia all'interno del partito che alla guida del governo, con la necessità però di rettificare quelli che sono stati gli errori o considerati come tali. Per quanto riguarda il nostro contesto locale, io ho avuto mandato dal comitato insieme a Cristian Fanesi di guidarlo, di coordinare quelle che saranno le attività da oggi fino al 30 aprile, per cui ci saranno sostanzialmente due fasi. La prima, quella più concentrata all'interno del partito perché fino al prossimo 2 aprile saremo dedicati a discutere di sei congressi. Dopo questo step ci sarà invece un secondo step più aperto alla città, nel quale comunque metteremo in piedi iniziative, comunque tematiche mirate, che saremo poi a comunicare iniziative radicate nella città, quindi iniziative dedicate ai giovani, dedicate a temi specifici, che faremo in dialogo sempre comunque con il contesto provinciale e nazionale che sarà presente con noi.